Ciao, stanco dei soliti investimenti? Stufo di aspettare le grandi occasioni? Ecco quello che fa il caso tuo. Avvolto dalla magia di Madonna delle Rose, una delle zone più ambite di Cesena, oggi puoi concretizzare un sogno, realizzare un progetto, acquistare una nuda proprietà e investire così in un futuro sicuro e proficuo. Hai capito bene, puoi accapparrarti quello che fino ad oggi non esisteva nel mondo immobiliare, quasi 100 metri quadri di appartamento a soli 85.000 euro. Corri a chiamarmi, sarò lieta di dimostrarti che tutto ciò è possibile. Ti aspetto!